Il provvedimento del Governo doveva essere un grande disegno di riforma alla giustizia penale, è diventato semplicemente il veicolo attraverso il quale il Governo si prende le deleghe in materia di intercettazioni. In più, quello che è salito nei lavori della Commissione Giustizia e della Camera è un qualche cosa che assomiglia molto al bavaglio, alla stampa, alla libertà di informazione. Il Sistema di Ecologia Libertà darà battaglia su questo provvedimento.